Sono Luca di Canessa SRL e quest'anno alla Design Week presentiamo due marchi, uno è Cadorin e l'altro è Pavaresine con due novità, i pavimenti in legno con queste texture molto particolari e questo bellissimo effetto di resina decorativa, composita di pava resine. Io sono Chiara Selmi e ho disegnato questi specchi che vedete alle mie spalle, sono stati prodotti da un artigiano giapponese, è stato un progetto per promuovere il virtuosismo tecnico dell'artigianato della zona di Shiduoka ed espongo insieme al mio collega Paolo Stefano Gentile che invece ha disegnato questi piatti per l'azienda siciliana Orografie. Entrambi i progetti sfruttano il tema del movimento che è declinato in un parodosso prospettico o nella distribuzione del cibo nel piatto. Sono Giacomo Figari dell'azienda Slate & Marble, siamo presenti in Val Fontana Buona, ci occupiamo di varie lavorazioni su di mare, pietre e graniti dove facciamo sia lavandini, rivestimenti, pavimenti e tanti altri oggetti. Siamo in grado di esodire qualsiasi vostra esigenza nel settore in cui operiamo. Grazie. Grazie.